Viene a Belvedere, un posto meraviglioso, abbiamo pure un panificio che è conosciuto da tanti è meraviglioso il panorama, però il rischio di un crollo qua è elevatissimo è stato tutto fermo, in passato pare che siano state investite 250.000 euro però guardate qua il rischio è veramente grande prima abbiamo visto una specie di frattura, non lo so, è qua e bisogna intervenire in qualche modo, è veramente pericoloso possiamo cercare di stare sul posto per i cittadini, guardate sembra che ne cade un pezzo alla volta qua speriamo che si intervenga, però questo è semplicemente una documentazione per dare informazioni ai cittadini ci hanno chiamato e abbiamo visto che il pericolo c'è effettivamente non sappiamo se poi anche da qua, perché vediamo pure delle però diciamo Sant'Agnele con le fontanelle, noi siamo innamorati con le fontanelle, è un posto bellissimo e questa è una strada meravigliosa